ciao a tutti ragazzi benvenuti oppure ben ritrovati quando i studi bike channel siamo ad unconventional travelers il programma dove vi faccio conoscere viaggiatori ciclisti non convenzionali magari anche sognatori o magari autori proprio di imprese sportive uniche vi ricordo che trovate anche la puntata su spotify itunes in versione podcast ma adesso ci ancio alle bande andiamo subito ad introdurre a razzo l'ospite di questa puntata che è kevin ferrari ciao a tutti ciao allora pietro se il primo che mi stringe la mano buono questo è un ragazzo educato è un ragazzo che fa delle cose veramente pazzesche adesso abbiamo passato qualche ora insieme mi hai raccontato tante cose che fai però presentati magari di chi sei da dove vieni e soprattutto che cosa fai insomma la sua condizione fisica è evidente a tutti però presentati un po ok ciao a tutti io sono kevin ferrari e diciamo ho studiato ingegneria ambientale ma secondo me non è la l'unica roba che mi caratterizza mi piace molto è il discorso della vita outdoor della vita all'aria aperta e del fare comunque avventure mi definisco più che uno sportivo puro uno che gli piace fare una ricerca dell'avventura nonostante tutto nonostante magari come ha detto pietro la mia condizione fisica possa essere magari svantaggiosa mi piace l'idea di dire ci provo a fare delle avventure che poi ti rimangono nel cuore delle immagini di notte esatto tra l'altro tu sei appena tornato da un'avventura perché a noi ci piacciono i ciclisti che si sporcano proprio letteralmente infatti tu sei appena tornato al Tuscany Trail esatto che hai completato in quattro giorni sì quattro giorni per fare quanto più o meno è 485 chilometri con mi sembra 7500 di dislivello tra l'altro ha piovuto c'è stato fango è evidente anche insomma la toscana è bella croccante come territorio ti sei divertito molto anche perché non è il primo anno che noi ci siamo conosciuti proprio lo scorso anno con il Tuscany Trail e insomma abbiamo una bicicletta qua alle nostre spalle è una bicicletta molto bella molto particolare infatti tu non hai il pedale esatto destro perché appunto non hai non hai l'arto destro e dopo magari ci entriamo un po' su questa cosa della della bicicletta di come pedalare appunto con solo la gama sinistra anche perché io l'ho provato adesso siamo appena arriviamo da un'uscita in bicicletta io ho provato e devo dire wow cioè ci vuole una certa mentalità predisposizione allenamento però raccontaci magari come sei arrivato in questa condizione tu hai avuto un incidente sì allora io ho avuto 13 anni fa il 22 giugno 2010 festeggiamo 13 anni ho avuto un incidente in moto ho fatto un frontale con un camion e diciamo che insomma lì c'è stato un po' il mio cambio di vita e ho perso una gamba e l'altra completamente rovinata e diciamo che per un bel po' di tempo non si sapeva cosa potessi tornare a fare io e anzi come raccontavo pietro nel durante il giro in bici in ospedale diciamo che i medici o i fisioterapisti ma avevano molto tra virgolette abbattuto anche sulle cose che avrei potuto fare nella nel dopo nel momento in cui avessi potuto recuperare ma hanno detto per esempio che in bici non sarei più potuto non sarei più potuto tornare e io per anni mi ero convinto che questa cosa fosse vera mi ero convinto che non potevo più andare in bici e avevo accantonato l'idea di andarsi in bici esatto perché tu mi raccontavi che in realtà beh ti piaceva stare all'aria aperta ti piaceva nuotare però diciamo l'hai un po' riscoperta dopo 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 l'incidente diciamo che prima dell'incidente io non mi non mi sarei mai definito uno sportivo anzi cioè in tutti gli sport bene o male non andavo molto bene non ero molto forte diciamo che secondo me lo sport per come la vedo io è stato un po' anche lo sport e l'avventura perché quasi più l'avventura mi attrae cioè lo sport è funzionale a vivere dell'avventura per come la vedo io mi hanno aiutato a superare una sorta di depressione che poteva essermi venuta nel periodo comunque dopo l'incidente in cui magari vedi che fai fatica approcciarti al mondo delle delle ragazze fai fatica comunque non so anche un po di amici l'avevo persi nel perdere la gamba così quindi lo sport invece mi ha ributtato dentro ricrearti una compagnia di amicizie entrare nel mondo di poter approcciare delle ragazze ti dà sicurezza in te stesso e questo anche grazie ad una persona che tu hai conosciuto a trento giusto che poi ti ha un fatto entrare in questo in questo mondo eh sì diciamo che questo ragazzo michele paderno ciao michele ciao michele che che poi comunque era mio conquilino e all'inizio ammetto che mi stava anche abbastanza su scatole perché era un po è uno che vuole programmare tutto ma lo sai lo dico sempre e in realtà eh all'inizio mi ha detto secondo me tu puoi scalare lui istruttore del caide rampicata e io gli continuavo a dire no guarda che scalare non si può senza una gamba già per sé la rampicata è tosta è tosta sì 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 e tu figlio tra virgolette di quel periodo dopo l'incidente in cui ti hanno detto non potrei fare certe cose hai detto cazzo è impossibile eh sì io l'unica cosa che facevo dopo l'incidente per sei anni era nuotare che per carità a me piace tantissimo il nuoto è lo sport più completo signora mia eh sì è vero è vero e comunque è bellissimo però diciamo che è una cosa abbastanza sicura è difficile farsi male nel nuoto se sai nuotare insomma e invece lui mi ha detto no secondo me tu puoi rampicare è andato avanti per mesi eh non è che è stata una roba veloce finché una sera mi ha messo addosso un imbrago e mi ha detto mi ha fatto di ma mi ha dimostrato che non succedeva nulla anche se fosse caduto io ho relegato lui con la corda e quindi non potevo cadere giorno dopo mi portò a rampicare e mi dimostrò che potevo farcela quindi piano piano abbiamo iniziato ad rampicare sempre di più fino a fare avventure anche abbastanza di un certo livello abbiamo fatto via da 4 500 metri in montagna comunque scalando grande michele grande michele perché appunto ti ha ti ha stimolato e un po' rotto quello che ti avevamo detto e devo dire che certe volte di quest'altro amico non ne parlo molto ma secondo me anche lui mi ha aiutato col mondo bici invece che è venuto al tuscan in questi giorni con me lui è quello con cui ho fatto più avventure secondo me in bici è Alessandro Bellio che saluto anche lui ciao Alessandro e anche lui diciamo che è con lui che abbiamo iniziato andare in gravel che mi ha un po' spronato dire guarda avvicinati al mondo del gravel perché è bello è un mondo diverso perché io quando avevo iniziato andare in bici andavo in bici da corsa no anche perché su strada sì cioè io posso dirlo ora che l'ho provata è più facile l'ho provata sia sul navigo che c'è la ciclabile sia fare un pezzo in gravel anche abbastanza croccante e non è facile no e invece iniziare su strada mi sentivo sicuro mi sentivo tranquillo insomma è difficile cadere a meno che non ti vengano addosso però a parte quello e anche grazie a questo amico in realtà piano piano abbiamo iniziato un po' a esplorare i dintorni di Trento dire è bella questa cosa che dice appunto degli amici perché secondo me ne parlavamo poco prima di iniziare c'è molto il fatto che tu rischi di passare come un eroe come uno che ce l'ha fatta però in realtà parlando con te c'è molto questo aspetto di dire cazzo però tu in realtà ne sei uscito da solo ma soffri cioè questa roba qua è una roba pesante che ti è successa cioè grazie all'aiuto di qualcuno sei riuscito a fare delle cose fighe ma secondo te da solo si può fare secondo me può essere però deve avere una forte volontà super di ferro invece quando le fai con qualcuno perché anche con la mia ragazza le cose che faccia il tuscani è venuta anche lei ha portato molti più molti più bagagli di me e il fatto che il fatto di sapere che c'era anche lei che mi aiutava che magari quando io spengo il cervello lei aiuta me o quando lei spegne il cervello io aiuto lei e così ti aiuta tanto dal punto di vista mentale sì cioè comunque l'aspetto mentale è importante sì perché magari dopo fisicamente tu ce la fai fare quasi tutto ok ma è più la testa secondo me il problema mentalmente bene o male mi organizzo a fare tutto qualche maniera a meno che non sia impossibile però l'unica roba che mi hanno dovuto proprio aiutare per esempio durante il tuscani è stato fare un guado ah il famoso guado del tuscani 2023 è diventato famoso quello lì che era vietato farlo l'avevano tolto io e altri sei persone l'abbiamo fatto questo guado vicino a bagno vignoni ok ok e l'abbiamo fatto ce l'abbiamo fatta però lì mi hanno dovuto un po aiutare è diventato famoso quel punto nel tuscani 2023 perché ho visto un sacco di foto di gente in attesa di passare quel guado gente che non voleva farlo e lì era tosto perché ha pevuto tanto si vede dalla bici com'è concetto era molto più sporca questa roba qua secondo me di far passare di chiarire anche c'è il fatto che sui social molto spesso anche io ti ho conosciuto prima dal vivo al tuscani scorso ma poi ti ho seguito sui social c'è un po il discorso della pornografia del dolore cioè di dire a tu come sei fortunato che sei in questa condizione si invece passa spesso è un peccato per poi parlando con te si scoprono delle cose che dici però questa persona c'è comunque affronta delle belle sfide ma perché secondo me spesso quello che noto le persone mi mettono nella posizione dell'eroe ma sono loro che mi vogliono mettere in quella posizione lì no perché mi vedono che faccio delle robe stra belle stra fighe così e loro mi mettono nella posizione dell'eroe perché loro in quel momento lì secondo me loro si sentono inferiori a me ma non devono perché magari l'hanno fatto anche loro il tuscani siamo tutti umani siamo tutti normali abbiamo tutti voglia di sentirci vivi sentirci felici e quindi secondo me non è che devono mettermi nella posizione dell'eroe sì ci ho messo della grinta nel senso ovvio che non credo che tutti ce la possono fare senza una gamba fare il tuscani quello lo penso non è per vantarmi però penso che insomma non sia facile quattro giorni non è male è dormendo sempre alla ghiaccia e tutto l'altro secondo me anche quello ti affatica molto perché non riposi mai bene però dal da qua al mettere una persona la posizione dell'eroe secondo me ne passa è anche giusto un balance un giusto balance anche perché poi tu mi hai detto stai facendo un percorso di psicoanalisi è diverso dalla psicoterapia comunque ti aiuta si mi ha aiutato molto secondo me negli anni avevo fatto vari percorsi negli anni e uno con roberto re quindi molto più motivazionale però nel tempo ho capito che motivazionale si ti senti sempre super energico super però non avevo bisogno solo di quello perché di energia ne ho a me serviva anche investigare un po dentro di me cosa cosa volevo migliorare cosa risollere e così e secondo me la psicoanalisi va in meglio a studiare certe dinamiche di te che magari non ti piacciono e tu le stai ancora scoprendo sì io sto continuando ad andare nonostante secondo me sei anni è un bella e vado comunque due volte a settimana però io quello che ho pensato che sono soldi ben investiti questi ok per la bella questa cosa cosa perché appunto secondo me ti ti fa identificare con una persona fine normale normale e che comunque con l'aiuto di altre persone che ti vogliono bene quindi amici quindi la tua ragazza è bello no bello secondo me è bello ed è bello anche dirlo perché adesso ovviamente tralasciamo la parte mentale so che voi volete sapere avere più curiosità da parte di kevin su come si va con una gamba sola a fare il task che entra in quattro giorni ma non solo hai fatto anche altre cose fighe poi vai in mountain bike vai in montagna però secondo me anche questa parte un po più mentale se vogliamo motivazionale ma neanche troppo secondo me è molto realista esatto cioè bella interessante questa cosa qua quindi adesso a bomba allora l'anno scorso a Tuscany avevi una canyon grail sì giusto bella bici sì ma cos'è che fa per te la differenza in una bici perché pedalare con una gamba sola non è come avere due gambe quindi ok ovvio ma quali sono le sfide che devi affrontare e come ti può aiutare una bici piuttosto che un altro magari la scelta dei rapporti non so diciamo ma allora sicuro i rapporti sono la cosa più importante secondo me soprattutto per eventi come il Tuscany trail o comunque per le cose che mi piace fare a me quindi mi piace fare molta salita e magari salita su sterrato quindi rapporti molto asili davanti io per esempio ho provato prima una corona ovale un 32 ovale non mi sono trovato più di tanto bene ho messo un 32 classico circolare e un 10 44 10 dietro si può a mi piacerebbe mettere anche un 50 dietro perché almeno in certe salite molto molto rotte molto di fatto la mia oggi quindi si diciamo che il 50 certe volte può aiutarti sulle salite molto rotte 22 davanti se la mountain bike ho il 30 52 per dire vai sui muri eh sì no ma infatti con la mountain bike vado su da salite belle impervie hai una mountain bike in carbonio molto leggera e anche con quella vai a fare delle cose toste si con la mountain bike ho provato quest'anno anche quella era una cosa che non credevo di poter fare però lì la roba bella che non c'è stato nessuno che mi ha spronato mi sono auto spronato da solo era una cosa che mi faceva paura però ho detto voglio provarsi a fare una gara di mountain bike e a portarla a termine ho fatto la bardolino bike che abbastanza non troppo difficile come percorso però in discesa un po di single track c'è in salita comunque bisogna pedalare è stato bellissimo c'è ma ha gasato un sacco una domanda hai mai pensato all'e bike anche solo per un istante l'ho provata ancora ma no non mi piace proprio non mi piace l'idea e poi non mi sento in controllo non mi sento l'ho provata in un giorno ho provato a fare il percorso della gran paradiso bike su a cogna e sono caduto tre volte perché provavo fare i gradini in salita e tutte le volte cozzavo col pedale perché lui ti dà un po di spinta quindi col pedale cozzavo contro il gradino e cadevo invece con la mia mountain bike essendo muscolare riesco a fargli quella quel colpo di reni che fate voi due gambe quel colpo di reni per buttarsi sui gradini e lo faccio perché sono in controllo totale non è che lei spinge al posto mio tutto quello che gli do è mio e quindi mi sento molto meglio sulla muscolare con la bici tu infatti prima abbiamo detto che non sei non eri appassionato di bici prima prima dell'incidente tanto com'è che è successo questa roba della bici tu mi hai raccontato un avvenimento che ti ha fatto innamorare della bici che hai detto voglio provare beh com'è che andate diciamo c'è stato un giorno che poi ero un po annoiato dalle mie parti sono originario di salò a un certo punto sono passato davanti a un negozio di bici ho detto ma proviamo ad andare dentro a vedere se mi fa provare una bici e se riesco allora sono andato dentro gli ho detto ma scusa io vorrei provare una bici mi dai una mano che ho paura di cadere mi sorrezzi per un attimo mi presti un paio di scarpette così per provare sono partito dopo un metro due in realtà riuscivo a pedalare allora gli ho detto beh tieni mille euro compro una bici e ho comprato nonostante quello che ti avessero detto cioè tu non non pedalerai mai più esatto invece anche lì diciamo che anche lì non è che c'è qualcuno che mi ha sponato provarsi però diciamo che aver avuto degli amici accanto che mi hanno fatto vedere che tante cose potevo imparare a farle così ancora ho detto aspetta che ci provo io vediamo magari magari si può in caso c'è proprio tu hai detto dopo un metro ho capito che ce l'avrei fatto sì veramente un metro ho capito che l'equilibrio ce l'avevo cioè ma perché secondo me la roba bella che si impara ad andare in bici da bambino tu l'equilibrio lo ricordi ok ce l'hai l'equilibrio quindi tu distribuisci cioè riesco addirittura con queste con con la bici con le gomme larghe per esempio con questa 3t che le gomme da 27 e mezzo belle larghe io riesco andare senza mani comunque magari in discesa mi metto lì senza mani vuol dire che l'equilibrio ce l'hai perché tu mi raccontavi anche prima che io non lo sapevo l'arto fantasma tu lo senti sì io l'arto fantasma ce l'ho secondo me è costante un po' tutti i giorni ce l'ho e dipende dai giorni ci sono i giorni che ti fa proprio male anche da nella scala da 1 a 10 dal dolore quella che ti insegna in ospedale anche da 7 barra 8 se non mediamente nei giorni normali 1 barra 2 comunque un dolore di fondo tu ce l'hai sempre senti il piede io sento qua il piede da qualche parte che è lì che mi ricorda che c'era una gamba e addirittura ci sono dei momenti che sento anche che se provo a muovere il piede mi provoco autodolore nel senso se provo a muovere il piede mi fa male a me per esempio non credo sia così per tutti ogni condizione appunto è diversa ok tu hai fatto il tasca di trail va in montagna viaggi in bicicletta però mi ha detto che l'hai fatto e tra l'altro hai scelto una regione in un tosta se un'area del mondo tosta in un periodo dell'anno che non è indicatissimo raccontaci perché eri eri con la silvia lì c'è questa donna fantastica grandissima ciao silvia brava perché abbiamo anche lì abbiamo dormito solo in tenda solo sempre e il caldo ti sfiniva lei ti cioè ti sta dietro queste cose ma si siamo arrivati a divertire più di te allora all'inizio no però adesso secondo me sì ok tipo all'inizio lei il suo problema era sempre la doccia no adesso siamo riusciti arrivare che quattro cinque giorni senza doccia li fa anche lei con me e quindi con le salviettine però comunque cioè molto grandissima diventata molto wild anche lei come me ma si vede che sei contento grande e avete fatto un viaggio molto wild sì abbiamo fatto la corsica con la gravel ad agosto ad agosto ferragosto che da lavamo anche mezzo giorno che veramente distrugge cioè raga per chi non ha fatto la corsica insomma mi sono passate tante persone da questo studio posso garantirvi che la corsica è tosta è molto wild è molto tosta sì e farlo anche in tenda è anche più wild secondo me poi addirittura c'è stato un giorno che eravamo a al centro della corsica non mi ricordo il paese conta conte mi sembra non mi ricordo il nome vicino ai monti più alti della corsica abbiamo detto vabbè lasciamo la tenda in campeggio e prendiamo fu le stampelle andiamo in bici fino al rifugio e dopo facciamo la cima di una montagna a piedi quindi abbiamo fatto l'unione delle cose proprio all'avventura però bello bella questa cosa qua c'è ok e beh insomma avete capito un po il personaggio quindi tra l'altro vi invito a seguirlo perché lui fa video e tra l'altro questa roba qua da anch'io faccio video c'è già vari video in bici voi non avete idea voi non avete idea di quanto è complesso fare un video in bicicletta perché farlo a piedi è una cosa farlo in bici è un'altra equilibrio sei stanco quindi anche non dire cioè dire cose intelligenti magari davanti alla telecamera quando stai facendo una salita non hai voglia o non ce la fai voglia sì tutto questo tu lo fai facendo molta più fatica e in più spesso c'è anche quando ti metti con l'iphone così a fare le riprese mentre pedali comunque nel frattempo tu devi sempre tenere conto dell'equilibrio magari in scesa certe volte tengo il freno davanti vado piano e faccio la ripresa con l'iphone oppure mi monto la gopro sul casco se è troppo ripida però mi piace di più fare le riprese con l'iphone mi piace di più come 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 ripresa mi piace molto oppure magari mi porto dietro il drone in su tasca ogni tre lavavo dietro il drone e ogni tot ogni tot mi fermavo e facevo delle riprese col drone riprendevo i miei amici quando c'erano dei bei cipressi quando c'era qualche bel scenario allora mancano cinque minuti alla fine di questa intervista voi adesso prendete il vostro telefono perché so che tutti guardano la televisione con il mano al telefono oppure se siete al telefono mettete in pausa il video andate iscrivervi al canale di kevin perché vi assicuro che fare video in bici è difficile ma farli per lui è più difficile quindi se lo merita il follow è anche su instagram tu su instagram racconti tutto e a proposito di instagram c'è una pagina che mi ti ho fatto scoprire ieri mountain for all dove tu porti persone in montagna chiunque diciamo che insieme a un amico che lui senza un piede abbiamo creato questa pagina e questa forse diventerà un'associazione lo spero e abbiamo creato questa associazione chiamiamola così già anche se non lo per far vedere che è possibile andare in montagna nonostante tutto nonostante magari qualcuno possa pensare a no non ho una gamba allora non faccio sci alpinismo come mi ero convinto io oppure non faccio arrampicata invece noi il nostro obiettivo è magari dire ti faccio vedere come si fa o ti aiuto ti magari fornisco gli ausili per poterlo fare facendo di provare le tutte le cose che ho io per che ho accumulato nel tempo le stampelle per andare in montagna le stampelle per fare sci e così quindi l'idea è proprio anche quella di portare sempre più persone che pensano di non potercela fare in montagna bello e ho visto che tra l'altro c'è le portate eventi molto partecipati quindi bene così sì sì ok e poi oltre a questo qualche altro progettino in testa ma in realtà un altro evento che mi potrebbe fare che sarebbe il market rail perché ho conosciuto l'organizzatore durante il Tuscany ciao Ivano ciao Ivano esatto e mi ha attratto molto l'idea di quella di quell'evento e un altro progetto che sto organizzando con un amico e la mia ragazza a Trento vorrei creare un percorso permanente che va a provare una zona secondo me bellissima molto selvaggia e già ho detto troppo e e vorrei creare un percorso permanente abbastanza duro però fattibile da una persona con una disabilità tutto pedalabile vorrei farlo comunque bella bellissima cosa bellissima perché c'è appunto come dicevamo anche durante questa chiacchierata alla fine tu sei una persona come tutte esatto quindi le sue cose molto bello molto bello c'è tanta carne al fuoco quindi siamo praticamente alla fine agli sgoccioli ma adesso ti farò una domanda che la faccio a tutti mi spiace tutti alla fine hanno risposto è una domanda un po' tricky un po' così però è molto curiosa perché serve a me io rubacchio idee rubacchio suggerimenti da persone che anche loro viaggiare fanno cose dovrei dirmi due cose che non possono mancare all'interno della tua attrezzatura delle tue borsa bikepacking del tuo zaino quando va in montagna una deve costare meno di un euro e l'altro meno di 100 euro vai allora meno di 100 euro ti direi ti stavo per dire adesso stavo per cambiare rispetto prima stavo per dire molti tool ma ti dico il coltellino svizzero quello lederman perché se dentro un po' tutto e ti aiuta in varie occasioni e quando vado in bici ti direi le toppe le toppe secondo me sono importanti tu usi camera d'aria usavo camera d'aria fino a poco tempo fa però c'è dentro comunque adesso c'è tubeless però usavo comunque camera d'aria ma la porto comunque dietro e le poi le porto comunque sì perché sono cerchi tubeless ready no sì sì ma sono tubelessizzata io ok sì ma nel caso dovesse succedere qualsiasi cosa togli il copertone metti la camera d'aria e si va quella cosa bellissima che si chiama camera d'aria che funziona ancora non so quanti anni abbia la camera d'aria ma funziona ancora va bene Kevin grazie allora di questa chiacchierata ti lascio chiudere però con un'altra domanda sì che ti ho fatto anche mentre pedalavamo dammi tre cose tre suggerimenti per chi è nella tua condizione fisica magari si sente un po demotivato e vuole anche lui iniziare a fare qualcosa non per forza la bici io vi suggerisco la bici perché è bellissima ma se dovessi dargli qualche suggerimento al Kevin che si appresta a fare le sue prime esperienze avresti qualcosa da dirgli non magari per forza dal punto di vista tecnico ma anche come approcciare la cosa allora sicuramente un po' essere aperti aperti proprio mentalmente di lasciarsi anche un po' influenzare dagli altri questa è la prima cosa quindi credere anche negli altri nelle persone che conosci che magari ti possono aiutare a vivere delle esperienze quindi non chiudere subito ma dire dai proviamoci insieme poi per esempio nel mondo della bici sicuramente un paio di rapporti agili e le scarpe con la sotto la tacchetta perché sicuro ti aiutano molto per poter pedalare comodamente e poi ti direi di nuovo credisi e non lasciarti limitare da quello che quelli che non vogliono che tu ce la faccia ti dicono non farcela non crederci provaci quantomeno al Kevin di una volta la parte mentale si è la parte più importante secondo me perché dopo le cose tecniche da quello che vedo si trovano sempre invece la parte mentale la devi trovare te non la può trovare qualcuno al posto tuo è una cosa tua è intima quindi devi farlo te bello no bello bellissimo quindi grazie di questa tesimata di questo racconto appunto andatelo a seguire di nuovo perché c'è tanta carne al fuoco fa un sacco di cose fighe quindi io direi che si è meritato un follow spero che questa checchietta vi sia piaciuta quindi di nuovo grazie ci vediamo sul canale youtube di Kevin e anche mio con tante altre interviste tante altre cose continuate a seguire i social anche di bike channel perché trovate sempre delle chicche interessanti il mondo bici quindi ti saluto Kevin alla grande ci vediamo in strada ci vediamo in strada adesso riposi che dopo il tasca in quattro giorni fatto un sonnellino che ciao ciao a tutti ragazzi